cari fedeli se lo dato gesù cristo oggi voglio rispondere una domanda che mi è stata fatta che cosa faccio se non posso confessarmi è la domanda domanda che molti si pongono in questo periodo in cui siamo stati tutti condannati agli arresti domiciliari è una domanda che può diventare anche angosciosa ho fatto un peccato mortale non potrò confessarmi fino a chissà quando se muoio andrò all'inferno allora per non rimanere nell'angoscia fermiamo le macchine e cerchiamo di spiegare bene le cose innanzitutto che cos'è il peccato partiamo da là il peccato ci insegna il catechismo è aversio a deo conversio de creatura allontanarsi da dio voltare le spalle a dio per rivolgersi alla creatura di fatto il peccatore fa del suo io il centro della sua vita e in fondo subordina a sé tutto l'universo è questo che costituisce un attentato diretto alla infinita nobiltà e grandezza di dio il quale è principio e fine di tutte le cose ora non è già che il peccatore si opponga sempre immediatamente a dio ciò che sarebbe proprio del peccato di odio a dio che è il più grave dei peccati ma abitualmente non è così ma il peccatore aderisce in modo colpevole ad una creatura a un essere che passa a un essere di cui dovrebbe semplicemente servirsi come di uno strumento per andare a dio e col peccato grave lo strumento diventa un fine il mezzo diventa un fine e quindi praticamente peccando gravemente l'uomo preferisce la creatura al creatore questa è l'ingiustizia profonda radicale di ogni peccato mortale e la riparazione di una tale ingiustizia richiede il dolore di ciò che si è fatto ecco allora prima di tutto che cos'è questo dolore si definisce il dolore come un dispiacere dell'anima un orrore una detestazione dei peccati commessi unito alla volontà di non commetterli più questo in generale e poi il dolore si divide in due tipi dolore perfetto imperfetto meglio dolore sopranaturale perfetto che si chiama anche contrizione dolore sopranaturale imperfetto che si chiama attrizione la contrizione quindi dolore perfetto sia quando il motivo del pentimento è l'amore di dio l'amore di dio che ci porta ad amare dio per se stesso perché bene sommo e poi il peccato sappiamo che causa di dolore nella misura in cui è causa della passione di cristo quindi dolore sopranaturale è quello che la causa il motivo del pentimento è l'amore di dio è la sua passione il dolore imperfetto che si chiama anche attrizione è il dispiacere causato non dall'amore di dio ma da un altro motivo inferiore rispetto a dio per esempio o il dolore del peccato commesso perché so che mi sono meritato l'inferno allora diciamo subito che questo dolore imperfetto o attrizione solo se è unito al sacramento della penitenza basta per giustificare il peccatore cioè basta per ritornare in grazia di dio l'attrizione unita al sacramento mi fa ritrovare la grazia ma da sola l'attrizione non basta per contro il dolore perfetto la contrizione da solo è sufficiente per ottenere da dio il perdono nell'impossibilità di ricorrere al sacramento della confessione il concilio di trento fa notare giustamente il primato della contrizione quindi del dolore perfetto su tutti gli altri atti del penitente quali sono gli atti del penitente quando si insegna il catechismo le cinque cose necessarie per fare una buona confessione come le dita della mano esami di coscienza il dolore del peccato il proponimento di non commetterli più l'accusa dei peccati e la soddisfazione o penitenza ebbene si insiste e bisogna insistere sul fatto che l'elemento fondamentale proprio il dolore dei peccati dice il concilio di trento la contrizione che occupa il primo posto tra questi diversi atti del penitente consiste in una detestazione dolorosa dell'anima accompagnata dal ringrescimento del peccato commesso e dal fermo proposito di non più peccare per l'avvenire dunque contrizione dolore perfetto e dolore imperfetto i due tipi di dolori nascono da due timori ben diversi la contrizione nasce dal timore filiale l'attrizione nasce dal timore servile qual è la differenza tra questi due timori per capire queste differenze racconto sempre la storia di gigino di pierino i due fratellini lasciati soli in casa per qualche ora e che ne combinano più di bertoldo e bertoldino e davanti alle macerie fumanti diciamo così i due incominciano a rendersi conto del male fatto e scoppiano in lacrime tutti e due ai 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 singhiozza pierino fra poco arriva la mamma e chissà quante ce ne dà ai ai gemme gigino fra poco arriva la mamma e chissà come sarà dolorata nel vedere che ci siamo comportati da monelli allora è chiaro che le lacrime del primo sono meno nobili delle lacrime del secondo è il primo sente già il dolore degli sculaccioni l'altro vede già il volto triste della mamma di cui ha tradito la fiducia santo maso traccia in modo più elegante più teologico questo itinerario quando spiega che il principio della penitenza penitenza intesa qui come la virtù della penitenza comporta delle fasi di passaggi è uno schema se vogliamo una guida bisogna tener conto delle circostanze varie di ogni conversione di ogni ritorno a dio ma la guida lo schema è questo c'è innanzitutto l'operazione di dio è lui che tocca il cuore del peccatore l'iniziativa parte da lui poi secondo il movimento della fede è la fede che mette l'anima in contatto con dio come davanti a gesù cristo terza tappa è il movimento di timore servile appunto dovuto alla considerazione dei castighi preparati in punizione della colpa quarta tappa un movimento di speranza che infonde fiducia nell'infinita misericordia di dio ed infine quinta tappa il movimento di timore filiale originato dalla riverenza verso dio con unita all'odio del peccato questo amore filiale lo potremmo chiamare anche un amore di preferenza perché mette dio al di sopra di tutte le creature di qua giù è questo amore di preferenza che produce davanti al peccato di fronte al peccato un sentimento analogo alla tristezza dell'anima di gesù nel gezzemani dove ha visto i peccati del mondo e questo amore di preferenza davanti a questo amore di preferenza il peccato appare come il vero grande male l'unico vero grande male un'anima contrita vede nel peccato ciò che è in realtà il più grande male dell'universo il catechismo del concilio di trento osserva se dio deve essere amato massimamente anche le cose che ci allontanano da dio devono essere da noi massimamente detestate ecco e questo movimento vedete di tristezza che costituisce un atto perfetto di carità verso dio in questo consiste il primo grande comandamento amerai il signore dio tuo con tutto il tuo cuore amare dio soprattutto sopra di tutto e ricondurre tutto il compimento della legge a questo comandamento primo e grande comandamento quanto detto vedete ci indica ci dà una prima indicazione la cura che dobbiamo mettere quando ci prepariamo a ricevere il sacramento della penitenza spesso si occupa il tempo della preparazione ad un minuzioso esame di coscienza quasi trascurando di detestare il peccato quindi mettiamo bene le cose nel loro giusto ordine è giusto fare l'esame di coscienza ma è importante importantissimo avere il dolore dei peccati quindi contrizione e confessione contrizione senza confessione è il caso in cui ci si trova oggi ho bisogno di confessarmi ma il sacerdote non è raggiungibile cosa faccio cerco di fare questo atto di dolore perfetto e le condizioni necessarie di una vera contrizione sono indicate del catechismo del concilio di trento in primo luogo necessario avere odio e dolore di tutti i peccati che abbiamo commessi in secondo luogo si richiede che la contrizione contenga la volontà di fare la confessione e la soddisfazione cioè la penitenza la terza condizione è che il penitente concepisca il proposito fermo di emendare la vita quindi vedete l'atto di dolore perfetto la vera contrizione comporta odio e dolore di peccati la volontà di confessarsi quando sarà possibile e il fermo proposito di cambiare vita e per spiegare il valore di questa perfetta contrizione il catechismo del concilio di trento dice ancora appena noi l'abbiamo concepito in mente ci viene concessa da dio la remissione dei peccati come dichiarano in altro luogo le parole del profeta del salmista io confesserò contro di me la mia colpa al signore e tu hai rimesso l'impietà del mio peccato nel salmo 31 troviamo anche una figura di ciò continua il catechismo del concilio di trento nei dieci lebrosi che mandati da nostro salvatore i sacerdoti furono liberati dalla lebra prima che vi arrivassero c'è dunque dato di conoscere che tale la forza della vera contrizione di cui abbiamo parlato sopra che per suo beneficio impetriamo immediatamente dal signore il perdono di tutti i peccati ecco cari fedeli allora posto a questo momento difficile far crescere in noi l'amore per il sacramento della penitenza chiediamo perdono se in passato abbiamo lo abbiamo trascurato o l'abbiamo considerato come qualcosa di dovuto una routine un'abitudine il concilio di trento questa piccola espressione molto bella tutto ciò che resta oggi di santità di pietà e di religione nella chiesa è in gran parte effetto della confessione grazie buona giornata e salutato giusio cristo